Siamo qui nelle Marche al Parco Fluviale di Monte Cosaro in provincia di Macerata con gli amici di Verde Azzurro e di Peter Pan. In questo splendido comprensorio di laghi oggi dimostreremo varie tecniche del feeder fishing e in più in anteprima presenteremo i grezzi perché purtroppo li abbiamo ancora solo a livello di grezzi delle nuove concept feeder che saranno in arrivo in autunno che sono la nuova linea top di gamma delle canne di Tubertini. Bene, siamo con Stefano Nonni, componente della lenza di Minato Tubertini con il quale affronteremo una delle tecniche del feeder fishing, i float in feeder e come appunto legge del nome utilizza pasturatori galleggianti e quindi l'azione in superficie. Questa innovativa tecnica distribuita da Tubertini è il Chummers che è prodotto dalla Nisa. La montatura è molto semplice perché va in line sulla lenza madre una piccola brillatura e uno sgancio rapido dove inseriremo il nostro finale con un innesco, in questo caso un verme fermato con due bigattini. Che tipo di pastura utilizzerai per svolgere appunto l'azione in superficie? è una pastura bagnata pochissimo quindi molto asciutta perché deve lavorare velocemente ma abbinata a questa pastura che appunto è asciutta ho preparato la stessa bagnandola in modo pesante come se fosse la pastura per l'alborella in modo che rilascia immediatamente un alone che attira meglio i pesci. Preparo una piccola parte di pastura asciutta, una pallina di pastura bagnata e poi ancora un po' di pastura asciutta. L'azione di pesca la vediamo immediatamente. La tecnica si svolge soprattutto in superficie ma per quale motivo? che soprattutto in questo periodo e poi anche in estate i pesci tendono a salire a galla. La pastura lavora immediatamente, il pesce è attratto dalla pastura, da quest'alone che lascia e trova subito l'esca a portata di mano. Anzi le abbocate in qualche caso sono veramente violente dove bisogna stare attenti e tenere la carne in mano altrimenti il pesce ce la porta via. e i i simpoli quattro o Poi ti faccio vedere la consistenza finale Allora Stefano vi ha fatto vedere manualmente come appunto avviene la preparazione della pastura Adesso vi facciamo vedere come questo tipo di pastura con questo tipo di bagnatura agisce una volta sul fondo dell'acqua Carichiamo il pasturatore In questo modo comprimiamo e poi la lasciamo cadere simulando il lancio nell'acqua Vedete che da subito inizia una fase di disgregazione dove escono delle bolle d'aria E questo fa sì che la pastura si gonfia ed inizia ad esplodere come se fosse un vulcane Bene e ora siamo con Federico Grilli Federico quest'anno ha vinto il campionato legionare Marche a Federfishing Pescherò con un pasturatore round line che viene montato direttamente sul filo madre della lenza Innescato con delle pellet Quindi il pasturatore verrà caricato con delle pellet Che tipo di trattamento devono subire le pellet per poter poi aderire al pasturatore e non disperdersi durante il lancio La 2 mm andrà bagnata per 2 minuti e la 3 mm andrà bagnata per 3 minuti Quindi come potete vedere il pellet con l'amo viene nascosto all'interno di questo pasturatore Il pesce naturalmente andrà a mangiare le pellet che durante la zona di pesca naturalmente si apriranno e usciranno dal pasturatore Non si accorgerà dell'inganno e quindi anche in questo caso le mangiate saranno abbastanza franche Bisogna stare attenti veramente che il pesce non porti via la canna di mano Il pesce naturalmente e anche in questo caso le mangiate saranno abbastanza franche Il pesce naturalmente e anche in questo caso le mangiate saranno abbastanza franche Il pesce naturalmente in line di Tubertini con un i-rig e montato un pellet da 10 allo Trasberry Questi sono i famosi pellet fai da te realizzati con l'Ea4Machine giusto? L'A4Machine è un ottimo attrezzo della linea Tubertini che ci permette di fabbricare delle pellet di variate misure automaticamente e economicamente a casa La pastura che io ho utilizzato è una Big Fondo rossa con una Aiprocarpe 50-50 Questa è un buon profumo, una buona granulometria che ci permetterà anche di avere un'ottima esplosione mentre peschiamo sul fondo Grazie a tutti! 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 potremo tranquillamente utilizzare la Green Marine della Val de Ney che è a grana fine e quindi non ha bisogno di nessun trattamento altrimenti batterà setacciarla, setacciare la pastura e quindi ridurne la grana. In questa presentazione utilizzeremo un additivo allo strawberry di Tubertini a quale aggiungeremo una percentuale del 10% del PV1 che servirà per rendere più compatto e amalgamare bene il composto per ottenere appunto dei pellet allo strawberry che già testati personalmente che ci hanno dato tantissime soddisfazioni con le carpe e con l'istorione. La composizione di questo mix è molto semplice, come abbiamo detto abbiamo utilizzato quindi lo strawberry in aggiunta un 10% di PV1 e un uovo che noi naturalmente andremo ad amalgamare il tuolla albume con un mestolo, naturalmente una volta amalgamato il tutto cominceremo ad aggiungere gradualmente il nostro mix in una quantità di 100 grammi per ogni uovo. Successivamente l'impasto dovrà continuare ad essere impastato a mano come avverrebbe con la normale pasta per la pizza fino a ottenere una palla della consistenza di un pongo metteremo un po' di pastura sul fondo per non farla incollare dopodiché andremo a sistemare appunto questa palla del composto che abbiamo ottenuto grossomodo all'altezza dei boldi della tavoletta. Una volta appunto distesa con l'aiuto delle mani il composto sulla tavoletta rispettando comunque l'altezza di questi bordi, con l'Effermacine andiamo ad esercitare una pressione verso il basso una volta fatto questo la parte inferiore andiamo a premere ed ecco i nostri pellet forati. La cottura noi consigliamo l'uso del microonde, basterà impostare una potenza media di 700-800 watt per 30 secondi per ottenere una consistenza abbastanza morbida del pellet fino a 2 minuti per ottenere una consistenza più dura e quindi per un pellet che agisca in tempi maggiori. per l'interlacionale, si può recuperare una piccola Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS bella bene, ora siamo con Manuel che naturalmente non ha bisogno di presentazioni è uno degli agonisti più forti nel panorama italiano del Fader Fishing Manuel oggi è qui per presentare in anteprima le nuove concept Fader sì, io le ho ancora purtroppo a modello di grezzo su cui appunto ci abbiamo lavorato abbiamo dato le nostre indicazioni al costruttore per apportare alcune modifiche che strutturalmente come attrezzo non varieranno di molto perché il carbonio, utilizzato è un carbonio d'alto modulo rinforzato radialmente sempre con del carbonio gli anelli sono degli anelli fusi e l'unica cosa che varierà è il disegno del manico perché abbiamo pensato di mantenere una linea come può essere la nostra linea Tubertini che riprende un po' il manico delle nostre canne in inglese un po' il manico della telica avete già visto le immagini di come verrà la canna finita però diciamo che a livello di attrezzo l'attrezzo è questo qui quindi questo è il prototipo finale naturalmente le canne saranno disponibili nel 2015 arriveranno sul mercato sì, io penso che i primi attrezzi finiti li vedremo da settembre in poi perciò diciamo che per la fine stagione per le fiere di fine stagione avremo già gli attrezzi a disposizione per testare ulteriormente questa canna che fortunatamente io è da qualche mese che ce l'ho e ci ho già fatto molte pescate vi farò vedere una pescata a lunga distanza adesso non ho misurato i metri ma siamo oltre i 70 metri sto usando la 390 che in produzione finita si chiamerà Medium Light perché poi avremo una versione Medium che è più potente ma oggi io penso di utilizzare la Medium Light con un pasturatore Rocket da 44 grammi dei mini e dovrei arrivare tranquillamente a pescare a oltre 70 metri senza grossi problemi nel mulinello caricato? nel mulinello chiaramente ho fatto uno shock leader con il nostro spinner dello 026 e poi sotto ho caricato il Ryujin il nostro tracciato della Ryujin dello 008 che ormai è una garanzia perché ne ho provati parecchi ma che vada bene come questo veramente ne ho trovati pochi anche perché poi è molto silenzioso non si sente sembra di utilizzare un nylon normalissimo però ti permette appunto di vedere delle tocche che con il nylon non si potrebbero vedere e soprattutto ha un'ottima affondabilità essendo un tracciato che di solito i tracciati fanno fatica ad affondare e per me ragazzi l'alba è un'attività all'attività della prossima settimana all'attività della Ryujin sono un'attività della Ryujin la Ryujin Quello buon dino? Eh, sarà meglio Eh, presto, presto ancora Non è grossissima Questa è la 12 piedi laica Del canno nuovo Stupenda Vero? Bella canna Bene, siamo con Stefano Cavicchi Anche lui componente della Lenza Emiliano Di Bertini Con lui affronteremo un altro aspetto Del Froating Fader Che praticamente è sempre una pesca in superficie Che utilizza appunto Che tipo di pasturatore Stefano? Il Chompers È un pasturatore galleggiante Dove è catturante Per i pesci a galla diciamo E si utilizza con Del bigattino affogato O addirittura anche con un po' di pastura Volendo anche all'interno Quindi Nel Chompers abbiamo investito Sei bigattini che particelli naturalmente galleggianti Come il I pellet e secchi Che rimangono quindi in superficie Esatto, esatto Che rimangono in superficie E la sua funzione È quello di attirare i pesci Diciamo Nei periodi caldi Che periodi Diciamo Di stagione abbastanza calda Quindi a che specie In questo modo Le calpe Le amur Le amur Quindi una tecnica Apprettamente superficie Che bisogna naturalmente Richiamare con Le particelle Che andremo poi Inserire Nel Chompers I pesci naturalmente Nei primi 30-40 cm Dalla superficie Giusto? Più o meno Diciamo che la superficie Di pesca è quella Ecco Ci può anche andare Leggermente un po' più sul fondo Ma diciamo che è prettamente Fatto E costruito Per pescare i pesci Diciamo abbastanza in superficie Abbiamo fatto anche La cattura del giorno La cattura del giorno Questa è la cattura del giorno Che bisogna avere un po' più sul fondo Ma diciamo che è presto Che bisogna avere un po' più sul fondo La cattura del giorno Ma diciamo che è successiva Che bisogna avere un po' più sul fondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, un'alborella. Sono cattive che tirano in una maniera bruttissima. Adesso forse è in diretta un'altra alborella, presumo. Pesce gattino. Bellino che ha mangiato con una forza incredibile. Noi speravamo che tu devresti fare qualcosa di meglio, insomma. Speriamo bene. Ma sono divertenti anche questi, sono sempre pesci. Guarda che ho preso un pesce in diretto. Che pesce, che è uno pesce. Bene, che amici siamo con Luigi Belli. Luigi sta iniziando quest'anno, ha iniziato per le prime volte ad avvicinarti alla feeder. Tu vieni dalla pesca a colpo e da quest'anno hai iniziato qualche gara nel feeder fishing, giusto? È una tecnica molto appassionante. Ho visto anche molte gare e devo dire che ogni volta che mi approccio a questa pesca trovo molto entusiasmo da parte di chi la pratica e da parte di chi la segue. Ecco, diciamo che mi sono basato sulla storia del lago, dove questi due componenti di pastura sono molto graditi ai pesci. la Fondo Big e la Carassio Special. È una pastura gialla, quindi imposterò la gara con il cage feeder sulla distanza di 30 metri, innescando bigattini e pasturando continuamente perché mi sembra che ci siano dei carassi e delle carpe molto affamati, diciamo. Piano, dai il tempo che vuole, che tanto non la puoi forzare perché una carpa... Manuel, una domanda, visto che hanno un diverso tempo di assorbimento i pellet e i bigattini, volendo incollarli insieme? Ma guarda, la cosa è molto semplice. Allora, io procedo normalmente all'incollaggio prima dei bigattini e noi usiamo la nostra colla... Il rubber, sì. La rubber, che è una gomma arabica, molto semplice, ne basta giusto una spolveratina sui bigattini appena appena umidi e questi, sì, diciamo, stanno insieme molto bene. E poi basta prendere il nostro pellet da 2 mm, asciutto com'è, lo si mette sopra e dopo un paio di minuti vedete che il pellet si... Praticamente come se fosse la ghiaia quando si pesca. Bravissimo, bravissimo, esatto. Ha la stessa funzione, diciamo, meccanica della ghiaia perché un po' appesantisce il bigattino ma soprattutto gli diamo della sostanza da mangiare ai pesci. È andata. È una bella banana? Sembra, sì. Grande, super caro. Non cattivissima, vero bella. Oh, bellissimo, adesso sei cattivista, adesso sì che mi piace. Oh, che river poster. Ma che bananona, bravo, super cavi. C'è river poster. Che fai, faccio io una foto? Sì, fermi. Eccola. Questa vista. Si molla? La portiamo fino qui e la montiamo. Beh, la voglio tutto. Grandioso. 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 Guarda lì. Bene, siamo arrivati alla fine della giornata. I laghi hanno... ci hanno regalato delle diverse catture di un'ottima qualità di pesce. Bene o male, un po' tutti abbiamo preso dei pesci. La compagnia è stata ottima, la giornata ancora meglio. Il pubblico che è venuto a trovarci è stato tanto e siamo veramente contenti. Un saluto a tutti e alla prossima dalla Lenz Emiliana Fider. No. 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 Grazie a tutti